Ormai ci siamo, manca veramente pochissimo alla prima prova di maturità e io lo so che la prima prova è quella che più di tutte viene sottovalutata. Male, malissimo. Perché invece il tema di maturità può fare davvero la differenza sulla vostra valutazione finale. Basta scendere in campo tenendo a mente alcune regole di base spiegate nel mio videocorso per sopravvivere all'esame di stato, livello 100. Trovate il link qui sotto. E adesso cominciamo. Pensavate di partire direttamente con i consigli di scrittura? E invece no. Partiamo con un principio imprescindibile. lo sviluppo di un buon tema prevede 4 fasi cruciali. 1. La scelta della traccia. 2. La scaletta. 3. La stesura vera e propria. 4. La revisione. Non sottovalutate mai questa sequenza di azioni cercando di velocizzare il processo di scrittura. Occhio, sarebbe un errore imperdonabile. Potreste ritrovarvi dopo 6 ore di lavoro con un testo incoerente, con poche informazioni e che magari va anche fuori traccia. Perché rischiare? Prendetevi il vostro tempo, soprattutto su questo primo punto. La fase della scelta della traccia perfetta prevede per voi un brainstorming generale sulle conoscenze che avete a disposizione e sulle vostre capacità di argomentazione. Andate con calma e ragionate attentamente, perché ogni traccia rappresenta una sfida su più livelli. Vediamole una per una. Tipologia A. L'analisi del testo. Qui vi troverete ad affrontare un testo letterario di prosa o di poesia. Le consegne sono diverse. La prima riguarda la comprensione vera e propria del testo. La seconda parte prevede alcune domande sugli aspetti stilistici o sul significato generale. E poi a conclusione vi verrà chiesta anche una vostra interpretazione, seguendo delle linee guida specifiche. Qui vi giocate il tutto per tutto. Potete scrivere una riflessione personale, un approfondimento con collegamenti ad altri testi dello stesso autore o autrice che vi ricordate o che appartengono magari alla stessa corrente letteraria. Potete addirittura inserire contestualizzazioni storiche, riferimenti cinematografici. Occhio solo a non strafare. C'è poi la tipologia B. Il testo argomentativo. E in questa tipologia di tema vi troverete davanti ad un testo di genere saggistico o giornalistico e dovrete interpretarlo e commentarlo. Nella prima parte della prova avrete a disposizione qualche spunto su cui articolare il tema, riassumendo, collegando ad altri argomenti ed esprimendo anche considerazioni personali. Il vero inganno di questa traccia? Beh, proprio la possibilità di inserire quelle opinioni personali, perché il rischio è quello di scrivere un testo che si basa sul nulla, senza un'argomentazione solida, forte alla base. Quindi regola aurea per questa traccia. Ogni vostro pensiero deve essere tassativamente sostenuto da fatti, citazioni, dati certi, riferimenti al testo. Bonus in più se riuscite anche a prevedere eventuali punti deboli o contro argomentazioni rispetto a quello che avete scritto. Ragionare in questo modo vi permetterà di costruire un testo quasi inattaccabile. Quasi. Non montatevi a testa. Ed eccoci qua, arriviamo al tema di attualità. La traccia che fa sentire al sicuro, quella per cui non bisogna aver studiato niente in particolare. Vi piacerebbe. In realtà la tipologia del tema libero è quella che più facilmente vi può mandare fuori rotta. E il motivo è semplice. In questo tipo di tema dovrete tirare in ballo le vostre idee personali, che però al tempo stesso per essere ritenute valide devono comunque essere sostenute da argomentazioni, informazioni e dati che avete acquisito nel tempo. In più questa traccia richiede una cosa che non può essere studiata, ma che mette subito in evidenza il lavoro che avete svolto nel percorso di studio. La vostra capacità critica. Si tratta di scrivere un approfondimento e come in ogni approfondimento che si rispetti, devono esserci collegamenti ben ragionati, approfondimenti curati e dati a supporto della vostra tesi. Insomma, no. Neanche in questa traccia si può improvvisare. E se questi specchietti ancora non vi hanno chiarito le idee, ho una lista di domande per aiutarvi a scegliere la traccia della prima prova. Quando vi ritrovate davanti alle consegne quel giorno, chiedetevi questo. Riesco immediatamente a richiamare le informazioni utili per rispettare tutti i punti dati nella consegna? Sono in grado di argomentare approfonditamente sulle tematiche della traccia? Mentre leggo la consegna mi vengono in mente degli esempi, dei riferimenti, delle citazioni, dei collegamenti utili? Cercate di essere molto onesti in questa fase quando rispondete a queste domande. Pena il ritrovarsi a perdere tempo per compilare la scaletta e poi dover cambiare traccia in corso d'opera. A questo punto raccogliete le idee e fate un veloce brainstorming. Potete anche scriverlo su carta, potete creare una veloce mappa mentale, senza concentrarvi sui disegnini però. Mantenete il focus sui collegamenti piuttosto, mettete giù tutto quello che vi viene in mente. In questo momento non state cercando di fare ordine nelle idee, ma di mettere nero su bianco tutto quello che può essere utile alla vostra argomentazione. Fatto questo si passa ad una scaletta precisa, organizzata, metodica. E lo so che la tentazione è quella di mettersi subito a scrivere, subitissimo, per non perdere quello spunto miracoloso che vi è venuto in mente e che secondo voi è proprio geniale. Frenate ancora una volta, prendetevi il tempo per capire come sfruttare al meglio le vostre conoscenze, mettendole in ordine logico e presentandole nel miglior modo possibile. Questo punto è cruciale, non si improvvisa la scrittura, la si progetta e poi la si esegue. Anche dove se volerci mezz'ora, anche un'ora. Perciò prendete tutte le idee che avete appuntato in fase di brainstorming e cominciate a metterle in sequenza, creando un filo logico. Non perdete di vista l'obiettivo finale del testo che state producendo, sostenere la vostra idea e difenderla da eventuali attacchi da parte di chi leggerà. Il testo deve essere coeso, ben strutturato, coerente e fluido. Alla fine della lettura la commissione deve essere convinta che abbiate sostenuto bene la vostra argomentazione, che abbiate risposto bene alla consegna e che vi siate espressi in modo corretto. Mettete in ordine le informazioni per fare in modo che accada proprio questo. Finita la scaletta, tenendola sempre davanti, si può iniziare a scrivere. E qui ho soltanto dei brevi consigli da darvi. Intanto mantenete un lessico semplice ma preciso. Non usate modi di dire troppo informali, colloquiali, ma non cercate neanche di inserire tutte le parole inconsuete e arcaiche che vi ricordate, vi prego. Ovviamente a questo c'è un'eccezione, e cioè i termini tecnici che vanno usati ogni volta che sono indispensabili. Per esempio nell'analisi del testo letterario dove dovete usare tutti i nomi delle figure retoriche e tutte quelle cose lì. Cercate di evitare le ripetizioni eccessive, sfruttate i sinonimi il più possibile senza però perderci la testa. E come dicevo più su, evitate le espressioni colloquiali, i modi di dire, i proverbi, il tu generico e tutto quello che fa parte del linguaggio parlato. Non siamo manzoni, certo, ma stiamo comunque scrivendo un testo da presentare ad una commissione. E poi costruite sempre frasi semplici, brevi e molto lineari. Non ingarbugliatevi in periodi lunghi, fanno perdere il filo del discorso e in più alzano a dismisura il rischio di errori e di sviste. E poi, prima di consegnare, onorate l'ultima necessaria regola per realizzare il tema perfetto. Rileggete, fate revisione, controllate, fatelo c***o! Rileggete frase per frase, fermatevi ad ogni punto per capire se ciò che avete scritto ha un senso e non contiene errori. Controllate se avete messo le i, le doppie, le H nei punti giusti. Per favore, assicuratevi che il pensiero che avete scritto sia coerente e di non aver sostenuto una cosa per poi smentirla due righe sotto o ripetuto sempre le stesse argomentazioni in loop per sei pagine. Come spiego nel mio videocorso per sopravvivere alla maturità a livello 100, dalla revisione dipende la riuscita della vostra prova. Questa fase fa la differenza tra un testo curato che può aspirare a un punteggio elevato o addirittura al punteggio massimo e un tema che rischia di non essere all'altezza della prova. Quindi se volete essere certi, certissimi di spaccare alla maturità, trovate il link qui sotto per il livello 100. È uscito il corso ad un prezzo assurdo e vi assicuro che potrà fare la differenza su tutta la vostra preparazione. Molto bene e dopo avervi terrorizzati abbastanza sulla revisione del tema, come è giusto che sia, a me non resta che augurarvi buona fortuna. E a voi invece tocca fare un bel po' di simulazioni. Buona scrittura. Grazie. 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 Grazie.